No no c'è qua! per come siamo avanti?! piacere che ahahahah No 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 ni ora stavoce che vi denuncio di che the fucking thing 300 mila uişe Denunciate i danni, che ve ne to' sicuro! Vai su YouTube! Denuncio! No no, i danni, voglio che chiedete i danni ragazzi! Ti denuncio! Vabbè prendi i danni niente! Allora metti a me, ti sembra tutto il doppio! Dopo fa mia famiglia! Non c'è tanto! Tu sei imparato? Ma ora ti denuncio! Ma mi la... Non c'è anche il pin de l'uncio! Basta! Basta! Da garfiolo, cantesse! Tu hai la pace? Facciamola a faccio! Però faccio! Faccio un bacio! BACCIO! 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 C'è più! BACCIO! No no no! Non faccio un bacio! Non faccio un bacio! No! 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 Non faccio un bacio! Il mio non era gricconi biakò e' la gricconi anche io Dimmi è la gricconi Carlo i musici sono dei frati la gricconi si si vogliono bene se si vogliono bene e' la gricconi la gricconi no Carlo, se si vogliono bene non so milanestra Ma perché? Ho detto che la luna è andata l'olena. Ma io ci fai! Buongiorno a metterla! Da l'oletta! Non c'è alcun fit però! No, non c'è il numero di cellulare! Ma che è te! YouTube! E tutti i messi che guarda YouTube! Mette! Registra! Registra e mette l'olena! No, vedi! Vedi, mostra il pelo! Vedi! Vedi! Vedi!